Sicuramente la caratteristica di Enrico Vedovini non è mai venuto a un piazza grande a fare le passeggiate, è sempre venuto a un piazza grande con la convinzione di poter vincere e sicuramente questa cosa qui la vorrà trasmettere anche a ragazzi, perché a me non mi interessa solo far bene, ma mi interessa vincere la lancia d'oro. Alle idee ben chiare Enrico Vedovini, nuovo preparatore di Porta del Foro. Non tornerà in piazza per fare da semplice comparsa, ma farà di tutto per far tornare al successo il quartiere. Le voci sempre più insistenti adesso hanno trovato così conferma. La decisione è stata formalizzata ieri sera, era una cosa che covava già da alcuni giorni con il rettore Felici che abbiamo portato avanti questa trattativa, diciamo. Lui chiamandomi mi ha detto, mi ha dimostrato proprio che aveva veramente bisogno di una figura magari come potrei essere io e ho accettato. L'ex giostratore di Porta Sant'Andrea ha disputato 40 giostre e vinto 12 lance d'oro, tutte per il quartiere Bianco Verde. Un curriculum eccezionale il suo, messo adesso a disposizione del quartiere di Porta del Foro. Cambiamento sicuramente va fatto sulla mentalità, bisogna cambiare marcia, cambiare passo. Non possono alternare giostre belle a giostre disastrose come l'ultima e questo sarà quello che chiederò. Chiederò impegno, rispetto e molta serenità. Spetterà all'ex campione della piazza una volta arrivato alle scuderie di Petrognano decidere assieme alla dirigenza che ha coppiata mandare l'izza per la giostra di giugno. Il quartiere ha in mano una rosa di 4-5 giostratori, chi più avanti, chi meno. Li conosco un po' abbastanza tutti. Ora vediamo, iniziamo a lavorare e poi dopo tireremo fuori, col passare del tempo, i titolari che correranno la giostra, su chi puntare, su chi meno. Sono molto indietro a livello di scuderie, sono proprio all'albori e anche su quel piano lì cercherò di dare il mio supporto nel migliore dei modi per poter permettere a questi ragazzi di potersi allenare in un ambiente confortevole, sereno e dove possano crescere bene.